ciao amici come eliminare la cellulite bisognerebbe darci un taglionetto sappiamo bene che non si può fare la natura per fortuna ci aiuta e la cellulite si può combattere ogni giorno in questi tre modi uno mangiare sano due fare sport tre un rimedio speciale i primi due li sapevo già ma il terzo il terzo è l'aceto di mele se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine c'è un regalino per voi perché l'aceto di mele è utile contro la cellulite secondo uno studio del 2004 dell'arizona state university negli usa l'aceto di mele è efficace nel ridurre l'accumulo di grasso nelle cellule del 10 per cento in particolare riduce la conversione di carboidrati in grasso e la ritenzione dei liquidi tra le cellule grasse in più l'aceto di mele ha una potente azione detox naturale importante per eliminare le tossine che il corpo parcheggia nelle cellule grasse e nei liquidi responsabili della cellulite e non solo l'aceto di mele aiuta anche la circolazione sanguigna e linfatica è un cibo alcalino e favorisce il corretto ph dei tessuti tutti questi fattori insieme lo rendono un alleato perfetto per combattere la cellulite e come devo usarlo sto per dirlo bevanda anticellulite con aceto di mele ingredienti un litro di acqua due cucchiai di aceto di mele preparazione sciogliere l'aceto nell'acqua e conservarli in una bottiglia come si usa si bevono quattro bicchieri al giorno in questi momenti un bicchiere al mattino a stomaco vuoto almeno 10 minuti prima di colazione un bicchiere 20 minuti prima di pranzo un bicchiere a metà pomeriggio un bicchiere 20 minuti dopo cena e per quanto devo berlo si fa così si fa un ciclo di un mese dove si beve questo rimedio per 15 giorni e si fa una pausa per gli altri 15 giorni ovviamente il povero aceto di mele da solo non può fare miracoli ma è un ottimo alleato se ci dedichiamo a combattere la cellulite a tavola mangiando in modo sano e facendo un movimento ogni giorno almeno 30 45 minuti per conoscere i miei altri rimedi anti cellulite scaricate i miei ebook se vuoi approfondire questo argomento e sapere come farti seguire da me per avere i massimi risultati senza commettere i classici errori del fai da te clicca sul link in descrizione e scopri il mio programma dedicato ed eccolo il regalino di oggi il pdf lo potete scaricare gratis dalla descrizione qui sotto dalla piccola i qui in alto commentate il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di simona vignali